Dal 1955 tanti fanesi si sono avvicendati all'ombra del campanile della chiesa Gran Madre di Dio a San Lazzaro. L'allora neonata parrocchia, alla guida di un giovane sacerdote, Don Gabriele Belacchi, ha voluto dare un'opportunità ai giovani che vivevano nelle poche case presenti, ragazzi che allora non avevano granché per divertirsi. Niente Xbox, iPhone, tablet, smartphone, Playstation. Quello che abbondava era invece la passione di correre dietro ad una palla. Non c'era tanto di più. E visto che vicino alla chiesa c'era un terreno ancora incolto, perché non trasformarlo in un campo da calcio? E la realtà si è trasformata in magia, dando vita all'unione sportiva adriatica. Seguirono anni di grandi emozioni e risultati. Alcuni di loro diventarono addirittura professionisti, come il calciatore Mario Barbaresi. Poi negli anni 70 il mondo del calcio si evolse e si allontanò sempre più dallo spirito con cui era nato per le vie del quartiere. Già da diversi anni alcuni giovani avevano iniziato a praticare uno sport che veniva da oltreoceano, i precursori della pallavolo, un'attività condivisa e adottata anche dal parroco. Diverse atlete hanno preso anche qui il volo per disputare campionati nelle massime serie nazionali, tra tutte Anna Zattoni, alla quale è stata poi dedicata la palestra Borgo Metauro. Don Gabriele ha seguito la società con l'affetto, la dedizione, l'entusiasmo con cui si cresce un figlio, lasciandola al momento del suo congedo dalla parrocchia in mano al nuovo successore, Don Giuseppe Marini. A tutt'oggi il Donga, nome con il quale Don Gabriele è conosciuto da tutti gli sportivi che hanno fatto parte della società, quando parla della sua creatura gli brillano gli occhi, ricorda i tempi passati con profonda emozione e chiama ancora quei ragazzi, anche quelli del 41 che hanno fatto parte di una delle squadre nel lontano 56. E in occasione del 60esimo anniversario di fondazione dei 40 anni di attività della pallavolo, la società ha organizzato una festa celebrativa con tutti coloro che nel tempo hanno contribuito alla lunga vita dell'associazione. All'appuntamento si sono ritrovati oltre 200 persone, tra atleti, dirigenti e allenatori che nel tempo hanno militato nelle fila della società, prima con il calcio e poi con la pallavolo. Era presente anche una rappresentativa di ragazzi che facevano parte di una delle prime squadre di calcio, capitanata da Vittorio Del Rico, una squadra di pallavolo del 75 al completo e tanti altri atleti delle varie rappresentative, compresa la squadra di pallavolo dove ha giocato il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Renato Claudio Minardi, presente all'evento. Tra foto d'epoca, aneddoti ed esperienze vissute nei campi e nelle palestre, raccontate dai vari protagonisti di questo mezzo secolo di sport, grande è stata l'emozione quando ha preso la parola al fondatore e al presidente storico, per oltre 50 anni Don Gabriele, salutato con la commozione di tutti e una spontanea standing ovation. Diverse riconoscenze sono state consegnate all'attuale presidente Massimo Gabbianelli dalle autorità amministrative e sportive presenti ai festeggiamenti.